Truffano una ottantenne pescarese facendosi consegnare dalla donna monili in oro e poi tentano senza successo un secondo colpo, ma scovati, sono costretti a fuggire prima di essere bloccati al termine di un inseguimento dagli agenti della squadra mobile che li arrestano. Protagonisti due ventenni campani a cui il questore di Pescara Luigi Liguori ha imposto anche il divieto di ingresso nel territorio comunale per i prossimi tre anni. Ieri nell'ambito dei controlli disposti anti rapine e anti truffa dal questore la squadra mobile è riuscita a intercettare questi due giovanissimi in trasferta che nella mattina di ieri avevano tentato di compiere una truffa partendo da una telefonata e poi presentandosi anche di persona a casa di una signora oltreottantenne che non è riuscita grazie all'intervento della nipote che ha capito cosa stava succedendo e ha allertato subito i soccorsi. E invece un'altra che sono riusciti a consumare ai danni di un'altra signora anziana convincendola a farsi consegnare un sacchetto pieno di oggetti preziosi e ricordi di famiglia fingendo di essere il nipote in difficoltà. Le ricerche che erano partite subito dopo la prima segnazione hanno permesso di rintracciare la macchina che si è data subito ad una fuga rocambolesca speronando anche la pattuglia che li stava inseguendo che fortunatamente è riuscita a fermarli e a recuperare anche il bottino che abbiamo restituito alla signora. Le modalità che si riscontrano più di frequente anche nel caso di ieri è quella della telefonata preventiva che tende sia a convincere la vittima a consegnare denaro o preziosi sia a farla rimanere sola in casa qualora ci sia la presenza di familiari che quindi possono magari intuire che non si tratta di una reale necessità magari di un familiare perché spesso le chiamate riguardano proprio una necessità, un'urgenza di un familiare spesso anche di salute per cui destano preoccupazione poi nella vittima che in quel momento si può far convincere.